Salvasi non solo muove, vincendo le partite, per vincere, per vincere, è un'uscita dal campo sudati, sudati da base, io sono venuto qui a giocare contro il Pisa, mi ricordo c'eravate qui 15.000, 13.000, 14.000, siete una tifoseria importante che merita una categoria importante, sono venuto qui non a svernare, vi dico sono qui, liberatevi di questi qua, mister!